Siamo con Massimo Fabio Conti, direttore sportivo della Fermana. Ecco, una Fermana che ha avuto un po' di problemi dall'inizio della stagione ma sta recuperando risultati. Sì, dopo il cambio di allenatore abbiamo subito intrapreso un nuovo cammino. Abbiamo raccolto oggi la terza vittoria consecutiva. Guardiamo con fiducia i prossimi due derby in casa domenica contro l'Ancona e poi chiudiamo il giro dell'andata a Iesi. Sono due partite difficili, però le affronteremo con lo spirito giusto sperando di portare a casa più punti possibile. Sappiamo che per i nostri tifosi queste due partite sono molto importanti, molto sentite e sicuramente cercheremo di farli contenti cercando di fare dei risultati importanti a cospetto di due squadre come l'Ancona e la Iesina che stanno facendo veramente bene. Ecco, poco da dire sulla partita del Boiano, una partita che già si sapeva in partenza non ci devono essere problemi, non ce ne sono stati. È un buon allenamento per voi. Avete comunque forti giocatori anche in panchina, quindi un organico di tutto rispetto che deve risalire in panchina con Mr. Boccolini. Sì, speriamo insomma di aver intrapreso la strada giusta con Mr. Boccolini. Dispiace assistere a partite di questo genere perché anche i ragazzi parlavamo dal primo e dal secondo tempo si trovavano in difficoltà a continuare ad attaccare però giustamente noi abbiamo fatto il nostro lavoro, probabilmente chi sta gestendo in questo momento il Boiano non sta facendo il suo ma andando in campo questi poveri ragazzi che vengono presi a pallonate dappertutto e purtroppo non è neanche bello venire qua a trovarsi addirittura senza palloni non sono belle cose però purtroppo non dipende da noi e noi possiamo solamente prenderne atto e constatare una situazione che sicuramente non fa bene al movimento calcistico in generale. Ecco la fermana che ha disputato anche i campionati di serie B, diversi campionati in serie C quindi deve risalire per forza la chi. Sì, noi cercheremo di mettere più fiene in cascina possibile in queste due partite che mancano per chiudere il girone di andata per poi programmare al meglio il girone di ritorno cercando di recuperare il terreno perduto nelle prime otto gare ma siamo convinti di avere i mezzi adeguati per riuscire a risalire la classifica e guadagnare le posizioni che secondo me questa squadra merita.